Ciao a tutti, ecco qua il mostro della Schifferon, lo Schifferon, lo Schifferon, adesso qua c'è tanta acqua, siccome sto usando una pompa e sono al minimo, e quindi l'acqua che mi tronduce questa pompa è tanta, ne va anche molta di meno, infatti mi sta afferricendo da qua, comunque queste qua sono le regolazioni dell'acqua che deve entrare dentro alla canalina, e qua c'è tutta la vanza per il lavaggio, metto in posizione così, ecco, metto due, in questo caso adesso mi sta lavorando, la canalina sta portando via tutto il materiale che si è accumulato qui Buongiorno 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 perché altrimenti il materiale può, a parte che ci sappia, non è che è l'appetita da salire però per andare tutto bene a presto e per chiudere bisogna aspettare che finisce l'acqua, perché altrimenti non prende la botta o gli mette una molla un po' più forte un po' di qua però la leva è solo una qua quindi gli mette anche la molla di qua per indietro e lì perché fa un po' trezza sì però dai, qualche accorgimento ma vabbè grazie a tutti grazie a tutti